Il Consiglio Energia dell'Unione Europea ha raggiunto un accordo politico per la proroga di un anno dell'obiettivo volontario di riduzione del 15% della domanda di gas fissato dagli stati membri. Il regolamento mantiene la possibilità per il Consiglio di attivare un alert dell'Unione sulla sicurezza dell'approvvigionamento. In quel caso la riduzione della domanda di gas diventerebbe obbligatoria. Il nuovo regolamento stabilisce un obiettivo volontario per gli stati membri di ridurre il loro consumo di gas naturale del 15% tra il 1 aprile 2023 e il 31 marzo 2024 rispetto al loro consumo medio nel periodo tra il 1 aprile 2017 e il 31 marzo 2022. Gli stati membri possono scegliere le misure con le quali vogliono raggiungere l'obiettivo. Inoltre il Consiglio dell'Unione Europea ha raggiunto un accordo politico provvisorio con il Parlamento per aumentare la quota di energia rinnovabile nel consumo complessivo dell'Unione al 42,5% entro il 2030. L'intesa dovrà ora essere approvata da entrambe le istituzioni. I negoziatori del Consiglio e del Parlamento hanno concordato in via provvisoria obiettivi settoriali più ambiziosi nei settori dei trasporti, dell'industria, degli edifici e del teleriscaldamento.